ma chi è questo? imbecille che purtroppo però c'ha affinziato un germanista e quindi è raccomandato non è consigliato parliamo di cose con il nome loro facendo un'altra cosa non è una affrontura e io non lo vado ehi vai 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 scelta palla non rischia di ciò non rischia vai vai stiamo sotto vola lui scelta palla scelta palla non sappiamo la palla no non c'è non è non ha tutta non c'è cosa? certo ok no sì si grazie oggi stavo a fare Vittoria lì ha esplorato Luca oramai è in clown al 100% lui E praticamente tappa assessori che Bene Grazie.